Hashtag io esco per donare. E' questo l'hashtag lanciato dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, esco solo per donare. Il rischio è infatti quello che all'emergenza Covid-19 se ne aggiunga un'altra, la carenza di sangue. L'appello ovviamente è rivolto solo alle persone giovani, in perfetto stato di salute e idonee alla donazione. Chi è abituato a fare donazioni di sangue è bene che continui a farlo, perché si sta registrando in Italia purtroppo un calo dei prelievi che sta andando oltre il 15%. Ora evidentemente il sangue è un bene primario rispetto al quale non si possono fare passi indietro. Siccome non c'è nessun rischio a fare la trasfusione o comunque il prelievo, io invito tutti i donatori abituali a continuare a fare prelievi e a donare il sangue perché è essenziale per la salute di tutti i cittadini. Oggi in quasi tutti gli uffici pubblici si ha accesso soltanto dietro prenotazione telefonica. Questo per evitare al solito l'assembramento, evitare l'attesa inutile e far lavorare meglio gli uffici che stanno lavorando a ranghi ridotti perché un po' tutti stanno tenendo a casa i dipendenti per evitare il contagio.